Grazie signore, l'accompagno fino alla casa. Le ultime notizie dal TG.com. Gli investigatori italiani hanno recuperato in Iraq l'auto in cui si trovavano Nicola Calipari e Giuliana Sgrena. Sarà portata in settimana a Roma per essere sottoposta ad accertamenti balistici. E intanto il premier Berlusconi ha ricevuto stasera l'ambasciatore americano Sembler. Poco prima la Casa Bianca aveva detto di ritenere assurde le voci di un agguato all'auto con a bordo la Sgrena. E sono state migliaia le persone che hanno partecipato ai funerali di Stato dello 007, eroe che ha fatto scudo con il suo corpo a Giuliana Sgrena. I funerali si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Per favore aiutatemi, sono state le ultime parole del professor Marco Biaggi prima di morire nell'agguato del 19 marzo 2002. A raccontarlo è stata una giovane testimone che ha deposto al processo a Bologna. La benzina tocca un nuovo record storico, superando quota 1,2 euro al litro, vale a dire oltre 2.300 delle vecchie lire. È stato il caro petrolio a provocare gli aumenti. Per tutte le altre notizie venite a trovarci su www.tg.com.it. Vi lasciamo al meteo e alla seconda parte del film. Mirti, la novità d'oria, di cui già non si può più fare a meno. No! La perfezione fatta donna. Dov'è? Dov'è finita? Lavoro in casa, fuori casa. Sono tua madre, non la tua serva. Mamma, moglie, amica, tutto. Cos'è? È una di quelle cose femminili che non capirà neanche in un milione di anni. Davvero così tutto che... Ci sono tre grandi errori che un marito non può permettersi. Farsi la segretaria e scordare una data importante. Sono due. Sì, ma una donna ti punisce per tre. Mamma in sciopero! Mamma in sciopero! Mamma! Mamma in sciopero! Mercoledì alle 21 in Prima TV Canale 5. Vivi la magia! Scarica le tue canzoni preferite. Con Vodafone Live, UMTS. La musica è tutta intorno a te. C'è un potere così forte, così irresistibile. Faresti di tutto per averlo. È il nuovo M3 Power. Il primo sistema di rasatura gilletta alimentato a batteria. Ha nuove lame Power Glide con un rivestimento brevettato per ridurre le irritazioni. Aziona le micropulsazioni. Insieme alle lame ti offrono una rasatura incredibilmente profonda. Un rasoio alimentato a batteria con le nostre lame più avanzate. Insieme per darti la migliore rasatura gillette. Nuovo M3 Power da Gillette. Chevrolet. Molto di più. Su tutta la gamma gratuitamente la doppia alimentazione benzina e GPL. Come si sente? Una bocca perfettamente pulita. Un'esclusiva combinazione di due tipi di microgranuli per una pulizia più profonda. Prova l'efficacia di menta dentro i microgranuli. La libertà è data dal non pensarsi. Il Ineseta Ultra controlla anche gli odori. Il Ineseta Ultra non solo resta asciutto e pulito, ma lo speciale nucleo interno è studiato per controllare e neutralizzare gli odori. Il Ineseta Ultra controlla odori. Una libertà in più. Credeva che Charlie fosse un amico immaginario di sua figlia. Finché la gente non cominciò a morire. Chi è Charlie? Robert De Niro. Se ne è andato. Dakota Fanny. Nascosto nel buio al cinema. Buono, mamma. Sugo con pomodoro a pezzi. Marco, mi vuoi bene? Certo. Non è ancora un saluto di mio papà. Ma certo che ti voglio bene, Diego. Allora faresti tutto per me? Tutto. Ma dove li hai imparati questi trucchetti? I nuovi sughi pronti Knorr hanno tutto il sapore fresco del pomodoro a pezzi. Knorr, innamorarsi in cucina. Il tuo conto corretto ti rispecchia davvero? Guarda i Flex di Banca Midolano. È comodo, lo usi quando e come vuoi e ti costa da zero a massimo 5 euro al mese. Ti serve contante? Hai oltre 15.000 sportelli convenzionati. E il Bancomat di tutte le banche italiane è gratuiti. Entra in Banca Midolano. Signor Mandelli, benvenuto nella mia banca. La sua banca? Ma è costruita intorno a me. Banca Midolano, costruita intorno a te. A casa usiamo solo rio melaceto, aceto di mele e detergente. Te puoi sgrassare la bella o fornelli? Niente ci fa. Melaceto ce la fa. Pulire, deodorare, niente ci fa. Rio melaceto ce la fa. Da Dez Amore Findus, ricchi tranci di merluzzo in una crosta dorata. La nuova ricetta croccante da preparare al forno. L'uova Citroen C2 DJ. L'unica con lp3 portatile e il piatto Sony Explode. DAV di odorante ti dà tutta l'efficacia che cerchi per farti sentire perfettamente fresca. E lascia la tua pelle morbida e liscia perché contiene un quarto di crema idratante. DAV di odorante, protezione efficace, risultato perfetto. DAV di odorante, protezione efficace, risultato perfetto. Amici, la fase finale. Giovedì alle 21 su Canale 5. RAS, costruttori di certezze. Questo programma è offerto da Nardi Elettrodomestici, Metal Design. Benvenuti a Meteo 5, le previsioni per domani. Ancora piogge sparse e qualche nevicata fino a quote molto basse su Molise e al sud. Per l'insistente arrivo di nuclei freddi dall'est europeo. Poi da mercoledì a venerdì bel tempo ovunque tranne le isole maggiori. Ma seguiterà a fare un po' freddo di notte e al mattino. Nella notte qualche pioggia su Calabria e isole. Deboli nevicate su Molise, Calabria, Alta Val d'Aosta e Brennero. Al mattino sereno al centro nord ma congelate. Qualche pioggia su Puglia, Calabria e Sicilia. Deboli nevicate su Molise, Nord e Sicilia. Al pomeriggio deboli nevicate su Puglia, Calabria e Sicilia. Isolati brevi rovesci e anche nevosi su tutto il sud. Ventoso al centro sud. Nella sera ancora qualche pioggia su Puglia e Sicilia occidentale. Previsioni e grafica. Epson. 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 Epson.